Ciao a tutti, eccomi qui, finalmente riesco a girare questo video, anche se Natale è passato, ma comunque lo dovevo girare, dovevo dedicare un video a Rosaria alias Annarella a Gioielli per il mega paccone, il regalone che mi ha inviato per Natale, inaspettatamente devo dire, io aspettavo degli swap e poi mi ritrovo un mega paccone da parte di Rosaria che è per uno swap, uno swap incrociato, però è stata la mia swappina, io le ho spedito delle creazioni del materiale creativo, lei però spediva ad un'altra persona, non so, forse ha voluto ricambiare, è stata così gentile, così proprio di cuore da regalarmi tutte queste cose, oltretutto io mi trovo molto bene con lei, siamo molto in sintonia e la trovo una persona, una creativa davvero splendida, molto di cuore. E niente, vi passo subito a mostrare le meraviglie che mi ha inviato Annarella. Allora, era tutto contenuto in questa My Beauty Box, per Abit Voice, l'ha specificato solo perché lei ha inviato pacchi a chiunque, a destra e a manca, una persona generosissima, e tutte le meraviglie erano contenute in queste bustine che io conserverò, sono davvero belle, tutte queste bustine, e niente, ve le mostro un po' per volta, le ho preparate qui sul divano per velocizzare il video. Allora, in primis, lei ha realizzato il biglietto di accompagnamento, l'ha realizzato lei, guardate com'è bello, credo che siano, diciamo, quelle confezioni che vendeva la Lidl per personalizzare, e niente, lei mi ha inviato questa bella versione in rosso con queste palle in blu. Naturalmente mi scrive delle cose bellissime, io appena ho ricevuto il pacco l'ho telefonata subito per ringraziarla perché sono rimasta bocca aperta. Allora, vi mostro le bellissime campanelle che fino a pochi giorni fa erano sul mio albero di Natale, che mi ha regalato, di cui ha fatto anche dei tutorial, e sono queste due bellissime campanelle con questo nastro che è delizioso, questo nastro rosa cipria con la scritta Merry Christmas è delizioso. Sono belle, rigide, eleganti, molto eleganti, io le trovate elegantissime devo dire. E come vi dicevo, fino a qualche giorno fa erano sul mio albero, che tra l'altro è proprio su questi toni. Poi mi ha inviato una delle sue, delle palle di cui ha fatto anche il tutorial, quelle realizzate con le stuffine. Anche questa è in bellissime tonalità, in colori molto vivi, molto luminosi, con questo nastrino bellissimo, sempre a tema natalizio. Magari vi metto tutti i link, i richiami dei tutorial nell'info box, così se vi va di realizzarli, ci sono appunto i tutorial chiarissimi, tra l'altro, di Rosaria. Poi mi ha inviato, in questa bustina, queste rose, questi fiori, queste camele, non so come chiamarli, realizzate con delle stoffine e le palline appunto di Natale, che si usano per decorazione. Ma guardate quanto sono ben fatte, il retro è fatto così, e in questo bellissimo colore. Ho pensato di farci dei fermagli per capelli, ma anche un bel braccialone estivo, mi piace, mi piacerebbe, con una bella fascia. Vediamo un po' cosa ci posso realizzare. Poi, la sorpresa delle sorprese, la meraviglia, mi ha inviato un fiocco di neve Kanzashi, che non so se rende in video, ma è qualcosa di spettacolare, con delle stoffine bellissime, rosso-dorate, queste qui a tema natalizio, col quale ci ha decorato anche il retro, e il nastrino sempre con fiocchi di neve, ma io ho visto il tutorial, lei l'ha fatto uno total white, che è qualcosa di spettacolare. E questo sì, è un lavoro di pazienza, un lavoro anche lungo, ma il risultato è spettacolare. Anche di questo vi metterò il link nell'info box. E come per le palline e le campanelle, è stata una delle decorazioni che ha accompagnato il mio Natale. Poi mi ha inviato una sciarpetta di quelle che realizza lei, con la lana della Lidl, e devo dire che ha indovinato i miei colori preferiti, perché io avevo comprato la lana della Lidl, ma era rimasto solo un colore sull'arancio, ce l'ho qui a portata di mano, era rimasto solo questo. Sinceramente non è bello quanto questo, quindi sono contentissima di aver ricevuto questa sciarpetta in queste tonalità. E naturalmente l'ho già indossata. Bella, bellissima. Poi, ancora, mi ha inviato questo sacchetto. Io non so se le ha la big shot, come faccia a realizzare queste meraviglie. È in feltro, non è pannolenci, è feltro, questo forse è pannolenci, con questa renna. Cioè, io non... ditemi cosa non è. Io anche questo l'ho messo sull'albero di Natale. Ci ho messo un po' di bambaggio, è stata una decorazione natalizia sul mio albero, perché è meraviglioso. È come se non bastasse, il sacchettino all'interno conteneva questo braccialetto. con la perla rivestita ad amigurumi, è quella la tecnica, credo di sì. E, diciamo, questa decorazione con le perline tutto intorno, sulle tonalità del viola. Forse l'anello... Ecco, forse così si vede meglio. E, diciamo, alla chiusura questo fiocco di neve, questo charms a fiocco di neve, che, tra l'altro, mi ha anche regalato. Mi ha regalato una bustina con tutti questi fiocchi di neve molto, molto belli. E, infine, in ultimo, ma non per ultimo, come si suol dire, mi ha regalato una scatolina piena di tag, di questi tag, di tanti colori. verde acqua, verde melanzi, grigio, verde... verde? Verde prato, rosso, color crema, bianchi, e poi anche questi tag con, diciamo, dei disegnini, con dei tagli. C'è il cuoricino, la farfallina, i contenuti in questa scatolina. E niente, questo è il colpo d'occhio di tutte le meraviglie che mi ha inviato Annarella. Questo è sul mio divano, sto trovando la postazione per mostrarvi tutto. E, che dire, io la ringrazio, le voglio tanto bene, anche se non ci si conosce di persona, però è vero, perché sento proprio l'affetto che mi ha dimostrato, che anche io provo per lei. La stima soprattutto per una bravissima creativa. E niente, che dire, io vi ringrazio per aver guardato il video, grazie a Rosaria, al suo gruppo, al suo canale, ai tutorial che ci regala. E niente, ancora grazie per aver guardato il video, ancora buon anno. Ciao, 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 ciao!